Queste unghie sono state un trend per tutto il 2023 Io non amo le unghie senza decorazioni Ma visto che le mie erano distrutte perché è troppo lunghe Ho deciso di cambiare tutto E provare a farle cambiando anche la forma Quindi con la mia unica tecnica abbiamo optato per questa mandorla Molto più corta rispetto a quelle che avevo prima Mi fanno super strano sulla mia mano E poi siamo andate a fare un effetto perlato Che non avevo idea di come si facesse Ma in realtà è semplicemente una polverina che si mette sopra Un po' come gli ombretti più o meno Penso siano le unghie più semplici mai fatte Ma anche le più eleganti Voi cosa ne pensate? Vi piacciono?